Le illustrazioni di Marco D'Ambrosio Maccox per sette passaggi della Divina Commedia declamati da Francesco Pannofino e spiegati dallo storico Franco Cardini e dal presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. È l'iniziativa presentata alla Casa di Dante con la collaborazione di Unicop per avvicinare i giovani al sommo poeta. Prevede sette tavolette che si troveranno per le vie di Firenze. L'accesso ai contenuti multimediali sarà possibile grazie a una app dedicata. Si parte da Paolo e Francesca raccontati con toni contemporanei e in parte dissacranti dalla matita di Maccox per la caccia al tesoro che si snoda poi per le vie di Firenze. Una volta localizzato il luogo con affissa l'opera sarà sufficiente inquadrare il disegno con lo smartphone su cui sarà stata scaricata la app Informatore AR disponibile nei prossimi giorni per Apple e Android nei rispettivi store virtuali per accedere ai contenuti esclusivi dove Cardini e Marazzini faranno da Ciceroni mentre Pannofino presterà la voce al poeta. I luoghi in cui saranno nascosti i disegni di Maccox saranno svelati l'8 luglio sulla pagina dell'informatore Coop. Insieme a questo è stato realizzato un cortometraggio sull'inferno dantesco in realtà virtuale 3D. Perché su Dante c'è un sacco di cose ma sono sempre le stesse. Allora il problema è come far arrivare Dante fuori dai vari musei. Quindi questa idea di...